Ora posso finalmente... Siate Vescovi rintracciabili, sempre disponibili. Non lasciatevi prendere dal desiderio di cambiare la vostra gente. Sono alcune delle raccomandazioni espresse da Papa Francesco nel discorso ai Vescovi di nuova nomina. Vi vorrei Vescovi rintracciabili non per la quantità dei mezzi di comunicazione di cui disponete, ha detto, ma per lo spazio interiore che offrite per accogliere le persone e i loro concreti bisogni, dando loro l'interesse e la larghezza dell'insegnamento della Chiesa e non un catalogo di rimpianti. E l'accoglienza sia per tutti senza discriminazione, soprattutto verso i sacerdoti, offrendo la fermezza dell'autorità che fa crescere e la dolcezza della fraternità che genera. E per favore, ha insistito il Papa, non cadete nella tentazione di sacrificare la vostra libertà circondandomi di corti, cordate o cori di consenso, poiché nelle labbra del Vescovo, la Chiesa e il mondo hanno il diritto di trovare sempre il Vangelo che rende liberi. Grazie. Grazie.